Allora, stiamo andando a Monterrey e a Carmel e anche questa è la California giusto per farvi capire che il tempo non è sempre etiliaco Abbiamo fatto una festa in un piccolo mercatino Sì, mercatino Le pizza Buon appetito Buon appetito Buon appetito Ciao Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In un posto alto Non c'è un posto più piatto di questo Il tempo continua a cambiare Grazie a tutti Tu sei una giapponese Grazie a tutti Grazie a tutti È molto famosa dal punto di vista turistico Infatti è vero che come guardate la pianta sono tutti vestiti col costume da bar Ora stiamo andando a prendere la pianta Se c'erava Bellosi fosse un bar Siamo arrivati a montare il nostro albergo che sembra più un motel E questi sono i nostri letto e questi sono i nostri letti ma siamo in quattro in realtà e dobbiamo dividerci questi due letti Abbiamo visto il bagno e abbiamo visto il bagno e abbiamo visto il bagno Questa è una famosissima di questa zona che si chiama clam chowder con il garanchio di albero dentro il pane Bene, da dove cominciamo? Cosa hai preso tu? Eh, il polmone Vai con il dialetto tarantino No, vai No, il parere è su questo No, il parere è su questo Non rinprima, il parere è su questo Ci non nasci c'è mani in Ci non nasci n'è simu c'è n'è Se tocca a sciamo c'è amo Se non tocca a sciamo lo sciamo no